I giochi sono ancora aperti, si ha affrontato una squadra molto forte come quella Lombarda, però il Rosso Blu, soprattutto dal punto di vista della determinazione e della voglia, non hanno deluso. Voglio correggere una cosa, il primo tempo non siamo stati il vado che possiamo essere, lo siamo stati nel secondo tempo. Il primo tempo eravamo un po' timorosi, hanno tenuto più pallino loro, non hanno fatto un tiro in porta, hanno tirato due volte, hanno segnato due gol. Non vogliamo dare colpa a nessuno, ma c'è stato degli sbagli nostri. Quello che invece rimarca e sottolineo, un secondo tempo in cui vado ha dominato il Pavia. Pur essendo una squadra forte, migliora in campo il loro portiere, però il portiere fa parte della squadra del Pavia e hanno tutto il diritto di aver vinto 2-1. Perché il portiere ha parato, però, quello che ho detto anche prima, se i miei giocatori capiscono che il secondo tempo può essere ripetuto a Pavia, andiamo a Pavia e ce la giochiamo.